L'inquinamento atmosferico. L'inquinamento atmosferico è stato molto all'inizio segnalato dalla Società Italiana di Medicina Ambientale come un fattore importante di rischio per la Covid. Basta vedere nelle zone rosse, nella cartina, sono le zone dove c'è stato sforamento dei limiti di concentrazione di PM2,5, il particolato fine atmosferico, coincidono in maniera sorprendente con quelle dove c'è stata un'elevata mortalità da Covid. Incidenza, ok, ma anche elevata gravità della condizione. La pianura padana, sostanzialmente. Il documento ha fatto discutere, il trasporto da parte dell'inquinamento come vettore non ha una grande plausibilità biologica, ma è chiaro che in ambienti chiusi, soprattutto in strutture sanitarie, il virus nell'aerosol emesso con l'estirazione potrebbe essere ancora infettivo e il particolato dell'inquinamento atmosferico può potenziare questo ruolo. Una ricerca su un territorio che copre quasi tutta la popolazione degli Stati Uniti ha riscontrato un aumento nella mortalità da Covid-19 per ogni microgrammo di incremento nell'esposizione a lungo termine a questo particolato fine, il PM2,5 e l'incremento sarebbe molto maggiore di quanto sinora associato a questo particolato come mortalità da ogni causa. La stima di questa ricerca sarebbe un aumento dell'8-10% per ogni microgrammo in più di PM2,5. Questo effetto, se confermato, potrebbe spiegare la diversa gravità delle epidemie regionali in Italia che sono certo condizionate anche da un fattore geografico. Se noi guardiamo le medie in Europa, ecco in pianura padana, da 25 a più di 30 microgrammi di media tutto l'anno di PM2,5. Il limite è fissato dall'Unione Europea è 25, in pianura padana spesso sforato anche a livello medio. I limiti dell'OMS sono molto più bassi a 10 microgrammi. I valori medi italiani sono circa 18 ma li tira su la pianura padana perché se no la media sarebbe inferiore. Tenete conto che in USA, dove hanno fatto questo studio, i valori medi erano intorno ai 10 microgrammi per metro cubo. Come interventi, certamente sollecitare misure per contenere l'inquinamento e fare scelte di vita e alimentari favorevoli all'ambiente, come diremo. Inoltre, anziani che abbiano problemi cardiorespiratori o adulti, bimbi con asma, possono monitorare i bollettini con i valori di particolato atmosferico e nei giorni di picco cercano di non camminare o fare attività fisica lungo strade a intenso traffico. Chi si muove in bicicletta nel traffico eviti le ore di punta e se non può farne a meno, questa può essere una buona idea per riparare naso e bocca con una mascherina lavabile senza spingere a fondo sui pedali. Anche quando si va in giro con i passeggini, evitare strade trafficate perché i passeggini sono con il bambino ad altezza dello scarico dell'automobile. E nelle abitazioni, in ora, senza il traffico diurno di punta di tante città, quindi verso sera o la mattina presto, aprire le finestre e dare aria ai locali. Perché è quello, cioè il virus se esce con l'aerosol si comporta come un gas e occupa lo spazio disponibile. Cosa fa una persona quando entra in una stanza e sente odore di gas? Apre le finestre. Quindi aprire le finestre c'è immediata, fortissima diluizione di qualsiasi concentrazione di sostanze non desiderate. E quando sul Corriere ho visto comparire articoli come questo, nelle scuole, lasagne, non minestre e bottigliette, nel ripreso delle scuole, pensiamo che le bottigliette individuali sono tanta plastica che si aggiunge agli inceneritori o alle discariche, come pure le eventuali stoviglie in plastica, mascherine e guanti, se Dio vuole i guanti non li usa quasi più nessuno, e addirittura i frutti ricoperti da una pellicola di plastica, follia che mi sembra sia tramontata abbastanza presto. Quindi se vogliamo limitare l'inquinamento atmosferico bisogna usare la plastica nello stretto necessario, non farne un uso per convenienza e comodità alternativo a un uso di prodotti molto più riciclabili.